Questo boom c'è stato, oggi stesso mi ha comunicato la ASL che sostanzialmente stanno dando prevalenza e il via libera a coloro che stanno facendo le seconde dosi, rallentando quindi le prime dosi perché ovviamente c'è anche una carenza di vaccini che dovrebbero arrivare oggi e quindi questo rallentamento delle prime dosi da parte di coloro che sono stati un po' ritardatati in vista della scadenza del 6 agosto saranno soddisfatti nei prossimi giorni. Noi siamo sempre attenti e d'accordo e abbiamo dato disponibilità alla ASL dell'Uomini della Protezione Civile e dei Vigili Urbani a presidiare il centro vaccinale di Via Tirino insieme anche a 15 operatori del Radio Cittadinanza quindi siamo in gran forza. Il tutto è subordinato al collo di bottiglia vero della campagna vaccinale che sono ovviamente le dosi dei vaccini che oggi ci dicono che saranno fornite e riprenderà di forte lena la somministrazione anche durante il mese di agosto. Non è escluso che ad agosto sia aperto anche del pomeriggio però questo lo valuteremo nei prossimi giorni insieme alla ASL perché vogliamo meglio gestire le forze in campo soprattutto quelle umane che ovviamente sono impegnate, lo ricordo da prima, con la campagna di screening e ora con le somministrazioni vaccinali quindi una volta stabilito il flusso dei vaccini cercheremo anche di ampliare eventualmente se serve l'orario. L'assessore regionale alla sanità ha detto che però non ci sarà ad agosto nessun rallentamento, si andrà avanti così. Ce l'auguriamo, è quello che chiediamo noi come amministrazione comunale di Pescara perché abbiamo investito da subito risorse e uomini per effettuare questa vaccinazione perché crediamo fortemente nella vaccinazione di massa della cittadinanza di Pescara e di tutti coloro che ruotano intorno alla città. Quindi vogliamo che il prima possibile siano vaccinati tutte le persone e stiamo impegnandoci per questo e non ci tiriamo indietro se dobbiamo mettere in campo altre forze ma ovviamente sono più che sufficienti quelle che abbiamo messo. Ripeto che il collo di bottiglia di questa campagna è la quantità di vaccini che arrivano a Pescara.